Musica Sabato 4 marzo 2017 nella sala convegni della Biblioteca Giocesana di Conversano incontro con Patrizia Caraveo, direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Cosmica, con sede a Milano. Lo scienziato italiano collabora da anni a diverse missioni spaziali europee della NASA dedicate all'astrofisica delle alte energie e non fa mancare il suo impegno nella lotta all'affermazione delle pari opportunità tra uomo e donna. Infatti è noto il suo impegno da tempo contro i pregiudizi che vogliono le donne adatte a certe carriere e non ad altre, come l'ambito scientifico, il mondo dell'università e della ricerca. Contro questo soffitto di cristallo è necessario, ama dire la Caraveo, educare le nuove generazioni perché abbiano pari opportunità nel lavoro e nella vita. L'incontro ha visto la partecipazione appunto degli studenti dei tre licei Sante Simone, Domenico Morrea, San Benedetto e con l'Istituto dell'Illa. Ad introdurre l'argomento il dottor Paolo Minafra, direttore della Società Astronomica Pugliese, con sede ad Acquaviva delle Fonti. Nel video vi proponiamo nella sua interezza la presentazione della dottoressa Caraveo in cui, con l'ausilio di cartelle e slide esplicative, parla di momenti e situazioni quotidiane palesanti anche nel campo delle professioni e la negazione di diritti in danno della donna. L'appuntamento si inquadra nell'ambito degli eventi della Città delle Donne che attraverso ricostruzioni storiche, artistiche, politiche e sociali studia il ruolo femminile nella società commersanese e pugliese. Allora, professoressa, oggi è una giornata molto importante la presenza di studenti di vari istituti. Parleremo della presenza di donne in generale nel mondo del lavoro e dei problemi che le donne hanno ad affermarsi nel mondo del lavoro non necessariamente scientifico, ma proprio nel mondo del lavoro in generale a causa di una serie di pregiudizi che rendono più difficile la scelta di una donna per una posizione in un'azienda e rendono molto più difficile per questa donna fare carriera. Quindi è chiaro che io non ho una ricetta per risolvere questi problemi però come scienziata so che la prima azione da fare per risolvere i problemi è conoscerli a fondo. Quindi io oggi voglio raccontare a questi ragazzi una serie di ricerche fatte da sociologi per mettere proprio in luce la presenza di questi pregiudizi. Quindi questo è il mio fine oggi, informarli. Dopodiché sarà compito loro decidere come combatterli. Quindi l'incontro è basato sulla scienza? È basato su una ricerca scientifica, su un certo numero di ricerche scientifiche che però non hanno a che fare con argomenti di scienza propriamente ma sono ricerche fatte da sociologi quindi da persone che si occupano di studiare il funzionamento del nostro cervello e di come il nostro cervello interagisce con la società. E il rapporto con l'astronomia? Il rapporto con l'astronomia ovviamente sono io in un certo qual senso perché io faccio l'astronoma e quindi conosco tutti i problemi delle donne nella ricerca, nell'università ma ripeto non è questo il fuoco di oggi. Oggi è proprio un argomento generale di informazione. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro.